Io ho il piacere di confermare che i rapporti tra Italia e Messico sono sempre stati ottimi lo stesso spirito latino, lo stesso spirito fantasioso, se vogliamo anche lo stesso attività è interessante dire che sono stessi i colori delle nostre bandiere sono stessi i sentimenti che animano la maggior parte del nostro popolo questa simpatia è stata ancora esaltata dal successo che hanno avuto certe telenovela messicane e particolarmente quelle che hanno avuto un'attrice come Veronica Castro che ha trasmesso simpatia attraverso i teleschermi a tutti i nostri ascoltatori italiani io oltre a queste brevi parole volevo presentare il console di Milano, il console di Carriera L'altro nostro illustre ospite, il dottor Francisco Barca Ecco, lei come rappresentante del popolo messicano e poi personalmente lei come esperienza ha conosciuto Veronica Castro, come si spiega questo successo di un'attrice messicana che segue quasi dopo 30 anni il successo di Maria Felix, l'unica diva per antonomasia messicana che è riuscita a sbarcare in Europa, in Italia, in Francia, film come quelli con Jean Renoir o con Bunel Ecco, dopo 30 anni solamente Veronica Castro è riuscita a tornare a far parlare di cinema, di televisione messicana Come può spiegare questa affinità di gusti e questa particolare attenzione per Veronica Castro? Innanzitutto credo che Veronica Castro con tutta la sua professionalità di attrice ha saputo trasmettere attraverso la immagine televisiva la sua caratteristica umana di persona bastante capace, bastante nobile, molto agradabile sa come trasmettere attraverso questa immagine che parlavo quello che in persona si reaffirma quando ha avuto la fortuna di conoscerla quando ha avuto la fortuna di parlare con lei quando ha avuto la fortuna di stabilire un contatto permanente di amicizia e credo che questo il pubblico italiano lo ha apprezzato abbastanza bene perché per esempio noi al Consolato arrivano parecchie volte carte, lettere delle persone italiane del pubblico che vogliono comunicarse con Veronica quando arrivano in busta chiusa ovviamente noi le inviamo le respidiamo tutto a Veronica Castro quando arrivano aperte tipo manifesto politico trasmettendo amore, sentimenti nobili per lei ovviamente quelli aperti ce li abbiamo in Consolato spero che la prossima volta che faccia un giro in Italia avrà l'opportunità di venire da noi al Consolato e le farò entregare tutte queste lettere In Europa Veronica Castro è arrivata grazie proprio all'interesse italiano per i suoi prodotti e dopo è passata alla Spagna proprio con la teenovela che ha avuto più successo anche di Chi Piangono come spiega questo interesse prima dell'Italia stranamente c'è sempre comunque un problema di lingue anche se le affinità sono tantissime e poi questo sbarco in Spagna dove anche quest'anno, inizio 88, l'anno scorso 87 il successo è stato notevole come in Italia può darse che il produttore italiano ha avuto un po' più pratica la visuale la vista commerciale, ha avuto un po' di furbizia come si dice qua sull'aspetto commerciale e l'esplotazione di questo prodotto è arrivato prima al mercato europeo attraverso l'Italia lo qual non esclude che prossimamente magari un produttore francese, tedesco possa riuscire anche a fare la traduzione e presentare la sua televisione Grazie